Buon pomeriggio a tutti, scusate se ci fermeremo solo pochissimi minuti, ma in questo momento stiamo ricevendo le parti sociali. Io coordinavo il tavolo dell'incontro con tutte le parti sociali, le associazioni di categoria, ci sono i governatori anche presenti in conferenza personale, in videoconferenza, ci siamo assentati un attimo perché era necessario chiarire ovviamente il capitolo delle, per quanto riguarda le misure varate, il capitolo della scuola. Lascio la parola alla Ministra Lucia Zolina, competente in materia scolastica ovviamente. Grazie Presidente. Sapete che in queste ore c'era una valutazione in corso sulla possibilità di chiudere o meno le scuole. Per il Governo non è stata una decisione semplice, abbiamo aspettato anche il parere del Comitato Tecnico Scientifico e abbiamo deciso prudenzialmente, visto che la situazione epidemiologica cambia velocemente, di sospendere le attività didattiche al di fuori della zona rossa fino al 15 di marzo. Quindi da domani, a partire da domani. So che è una decisione d'impatto, come Ministro dell'Istruzione io ovviamente spero che i miei alunni tornino al più presto a scuola e mi impegno a far sì che il servizio pubblico essenziale, seppur a distanza, venga fornito a tutti i nostri studenti. Guardate, aggiungo solo una consigliazione. Abbiate pazienza, non è questione di volontà, ma non abbiamo... Se mi fa parlare... Fusani, se vuole venire a spiegarlo a lei. Io stavo parlando, stavo cercando di spiegare qualcosa, di dire qualcosa in più. Allora, ci siamo, come sapete, questa mattina a tutti i ministri, con tutti i ministri, siamo riuniti. Non era formalmente un consiglio dei ministri. Siamo riuniti tutti però per valutare un aggiornamento sulla emergenza sanitaria e ho richiesto, d'accordo ovviamente con il Ministro Speranza, anche la presenza del Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, il Professor Brusaferro. Il Professor Brusaferro ovviamente ci ha aiutato, insieme al Ministro Speranza, che è diventato anche lui esperto perché in questa materia ormai è tutti i giorni che ci sta lavorando, ci ha aiutato un attimo a valutare qual è la situazione attuale epidemiologica, qual è l'andamento dell'aggiornamento della diffusione del contagio e ci ha fornito tutta una serie di valutazioni tecniche. Ci sono servite, io ero stato, ieri sono stato cinque ore in protezione civile con il Ministro Speranza, però è servito anche a tutti gli altri ministri per avere un aggiornamento a tutto campo, a 360 gradi sulla situazione emergenziale. Dopodiché vi anticipo in modo molto trasparente, perché noi della trasparenza abbiamo fatto sempre la nostra regola di azione, verità e trasparenza. Un'ampia parte della conversazione, dello scambio informativo è stato dedicato al capitolo delle scuole e delle università, quindi abbiamo fatto un'ampia valutazione avvalendoci dell'ausilio tecnico e dell'esperto del Professor Brusaferro. Abbiamo fatto varie valutazioni, l'orientamento del Consiglio dei Ministri è stato quello di disporre via prudenziale la chiusura delle scuole. Però ci siamo anche detti, e l'ho chiarito a tutti, eravamo tutti consapevoli, attenzione però, su questo, alla luce dello scambio informativo che c'è stato, demandiamo al Professor Brusaferro di ritirarsi col Comitato Tecnico Scientifico per un approfondimento specifico sul punto delle scuole, sospensione delle attività didattiche in vista della crisi epidemiologica in corso. Ecco perché abbiamo impiegato un po' di tempo. La notizia che fuoriuscita, che è stata anticipata, è stata completamente improvvida, perché non avevamo, non ci siamo lasciati con la decisione finale, in quanto abbiamo demandato al Professor Brusaferro un approfondimento per avere tutti gli elementi di valutazione. È un approfondimento sul tema delle scuole. Ci è arrivata questa valutazione tecnico-scientifica da poco. A questo punto, nell'ambito delle responsabilità, di quel margine di discrezionalità politica che rimane sempre al Governo, di chi poi firma alla fine il DPCM che disporrà alla chiusura delle scuole, su proposta del Ministro Speranza della Salute, sentita l'amministrazione degli altri Ministri competenti, poi rimane la decisione finale. Alla luce degli elementi sin cui acquisiti, tenuto anche conto che in questo momento ciascuno sta andando un po' sul territorio per suo conto, molti stanno perseguendo una chiusura sostanziale al dispetto di quelli che sono i provvedimenti formali, abbiamo ritenuto di disporre la sospensione delle attività, come ha riassunto l'amministra Zolina, sino al 15 di questo mese. Lasciando ovviamente poi tutte le valutazioni, le elaborazioni del Comitato Tecnico e Scientifico di valutare nel frattempo come si sta evolvendo questa crisi e poi faremo le valutazioni finali. Tutto qui, grazie a tutti. Torneremo ad aggiornarvi per quanto riguarda, questa sera vi diamo questa notizia, che stiamo preparando, stiamo lavorando alleggermente per il DPCM con le ultime misure e torneremo a comunicarvele presto. Grazie. Lo voglio firmare stasera, anche perché ovviamente ve l'ha chiusura delle scuole domani, quindi abbiamo già una bozza pronta. Non si capisce perché, questo approfondimento, cosa ha tirato fuori? Qual è il motivo per cui... Ha tirato fuori che in questo momento noi siamo concentrati ad adottare tutte le misure per ottenere un effetto o di contenimento diretto del virus o di ritardo della diffusione del virus, perché abbiamo delle strutture ospedaliere, un sistema sanitario che per quanto eccellente, per quanto efficiente rischia di andare in sovraccarico e questo è un problema ovviamente a cui non possiamo supplire potenziandolo in un breve tempo, perché come avrete compreso abbiamo un problema con la terapia intensiva e subintensiva, se ovviamente una crisi esponenziale dovesse proseguire. Grazie.